Radio Radicale, vi parliamo di Bibiano, lo facciamo con l'onorevole Gianni Girelli del Partito Democratico, perché oggi c'è questa intervista sul Corriere della Sera al psicologo Claudio Foti, che racconta un po' la sua odissea giudiziaria su un caso che quando è esploso nel 2019 con l'inchiesta Angeli e Demoni non lasciava scampo a coloro che erano stati indagati che vennero additati immediatamente come dei mostri. Allora, onorevole, io so che lei è molto attento a questi temi, le volevo chiedere cosa pensa di questa intervista, e di tutta l'aggressione mediatica che hanno subito sia il sindaco di Bibiano, che è un sindaco del vostro partito, che tutti gli indagati, io parlando qualche tempo fa con qualche esponente del Movimento 5 Stelle, loro erano ancora convinti dell'impianto di totale colpevolezza di tutto quello che definivano come un sistema. Io credo che nell'intervista emerga tutta l'amarezza di un professionista la cui autorevolezza era, io penso che verrà, ecco, restituita e conosciuta in tutto il paese. L'esperienza appunto anche di formazione che caratterizzava il suo lavoro e tutto, anche le pubblicazioni scientifiche, cioè la validità di un impianto provato nell'affrontare problematiche particolarmente complesse. E assieme a questo traspare, devo dire, con anche una capacità anche di pacatezza incredibile, quello che è una lettura di quanto è avvenuto, che come lei ricordava è stato immediatamente trasformato in qualcosa di diverso, rispetto a un patto da appurare, perché ovviamente ci mancherebbe altro che non vada fatta massima chiarezza e cose di questo genere, ma è diventato subito motivo di attacco politico, sguaiato, senza alcun fondamento, dove come spesso accade in chi concepisce il ruolo politico come un ruolo dei giustizieri della notte, subito si buttò addosso la croce al Partito Democratico. Ricordo gli attacchi del Movimento 5 Stelle, ricordo gli attacchi della destra rispetto appunto al Partito Democratico, il sistema bibiano, che sembrava fosse il sistema di un partito nell'affrontare quelle che sono le dinamiche del disagio sociale. Ora io credo che accanto alla riabilitazione del professionista, di Foti, del sindaco, di Viviano, ci sia bisogno anche di un mea culpa da parte di alcuni esponenti politici, e soprattutto la capacità di non continuare ancora adesso, di guardare delle riletture, quasi dicendo che in fondo avevano ragione loro, ma semplicemente pensare che non è così che si può pensare di fare un confronto politico o utilizzare possibili notizie di cronaca, tutte da appurare. Accanto alla soluzione di Foti, io credo che ci debba essere anche la condanna verso tutte quelle personalità politiche che si sono macchiate, io credo, di una delle peggiori colpe che la politica può fare. Gettare fango sull'avversario, denigrarlo, smontarne proprio la credibilità su presunte colpe. Senda, le è mai capitato di parlare con qualche esponente del Movimento 5 Stelle di questo argomento? E le volevo chiedere che cosa le avevano detto, per esempio con l'Onorevole Ascari, che è una di quelle che era più scatenata contro di voi. No, confesso che non ho avuto occasione di confrontarmi, anche perché sinceramente credo che non ci sono i termini del confronto. Esiste una sentenza che adesso in maniera molto chiara credo che abbia fatto luce e detto la verità. Forse c'è bisogno che deputati e deputate, senatori, senatrici, esponenti politici che in quei mesi, e a dire la verità anche dopo, hanno continuato a voler sentenziare, abbiano così l'umiltà di dire che si sono sbagliate e forse di chiedere scusa a un po' di persone. Anche alla luce di quello che sta succedendo oggi nel rapporto con il Movimento 5 Stelle, le volevo chiederle se le è capitato di riflettere sulla compatibilità di un'alleanza con chi ha questa impostazione, questo riflesso politico di comportarsi così di fronte a queste vicende. Io credo che col Movimento 5 Stelle, o meglio ancora mi verrebbe da dire col potenziale elettorato del Movimento 5 Stelle, ci siano tanti punti in comune con il Partito Democratico, l'elettorato del Partito Democratico, che le tensioni a certe situazioni di disagio, il bisogno di affrontare alcune sfide del futuro per salvaguardare alcuni principi di uguaglianza e di solidarietà che sono parte integrante della nostra storia, che riguardano tanti servizi, dalla sanità piuttosto che del comparto sociale, piuttosto che l'ambiente, ma mi fermo o mi fermo qui. Quello che però è necessario comprendere è come il Movimento 5 Stelle intende maturare il rapporto, che non può essere di natura molte volte conflittuale, dove le eventuali difficoltà dell'avversario, le possibili difficoltà dell'avversario vengono immediatamente colpite, quando soprattutto gli avversari sono gli alleati in alcune realtà e in alcune competizioni elettorali. Aggiungo, il Movimento 5 Stelle a volte sale in cattedra dando lezioni a tutti. Vorrei ricordare che il Movimento 5 Stelle è quella forza che andò al governo con la Lega, avvallò i decreti sicurezza, gli è dei dimostrazioni di voler affrontare la riforma sanitaria lombardizzando la sanità italiana. Ecco, quindi sulla cattedra credo che non sia certo il Movimento 5 Stelle né Giuseppe Conte che possa andarci. Anche a loro chiedo semplicemente l'umiltà di sedersi al tavolo, mettere accanto a tutti i loro potenziali, ecovalori, anche tutti i loro notevoli difetti, per trovare assieme al Partito Democratico una sintesi, rimendicando come partito un ruolo prioritario, perché se può esistere un'alternativa alla destra nel nostro Paese è attorno al Partito Democratico, ai valori del Partito Democratico, alla rete territoriale di amministratori locali del Partito Democratico, non certo attorno a chi appunto molte volte scade dalla politica al populismo e invece che perseguire dei principi di democrazia, giustizia, libertà e quant'altro, a volte prende la scorciatoia del giustizialismo. Io credo che ci sia la necessità di fare chiarezzo su questo, soprattutto in parte della classe dirigente del Movimento 5 Stelle. Il loro elettorato a volte penso sia più maturo della loro classe dirigente. Bene, questo lo vedremo e intanto grazie all'onorevole Girelli del Partito Democratico, con il quale abbiamo commentato l'intervista che ha rilasciato oggi Claudio Foti sul Corriere della Sera che riguarda la vicenda di Bibiano. La ringrazio molto della sua disponibilità. Un caro saluto a tutti, grazie a voi per l'intervista.